Sono Stefano, sono un artista, ho sempre dipinto quadri a olio, acrilico e negli ultimi anni mi sono dedicato anche molto all'illustrazione. Prima ero forse più fossilizzato sul quadro, avevo questa idea di artista nello studio, ultimamente invece ho questa urgenza, questa esigenza di poter portare in giro le mie opere soprattutto per incontrare la gente. Ecco mi piace questo peregrinare in mezzo alla gente e così è nata anche questa idea di questa piccola mostra itinerante sulla spinta, sullo stimolo di Papa Francesco che invita una chiesa in uscita, ecco andate, provate. E allora un giorno ero nel mio studio e mi son detto cosa posso fare, forse posso prendere queste opere e farle girare, farle circolare. Ho un po' questa esigenza che devo dire che nell'ultimo periodo è diventata anche una responsabilità poter uscire e portare un po' di bellezza, un po' di armonia attraverso le opere che realizzo. La serata si svolge in un'ora, un'ora e un quarto ed è un po' un tentare di armonizzare questi elementi che sono l'immagine da cui parto, i quadri, le parole, delle musiche, dei sottofondi. Soprattutto è giocata su una testimonianza della mia vita e quindi in realtà parto sempre un po' da quello che è la mia vita, dalle suggestioni in questo caso di San Francesco e poi da alcune pennellate sul Vangelo. Ci tengo molto alla cura dei dettagli. Ho costruito questi cavalletti con le mani, ho disegnato la struttura in ferro che ho fatto realizzare e poi invece ho realizzato con dei legni vecchi, le cornici, proprio perché credo molto in questa idea di artista artigiano. Assieme a questo c'è anche un'idea di leggerezza. Questi cavalletti si montano facilmente con delle calamite. È importante che la gente possa cogliere questa idea di armonia, di concretezza e di leggerezza. Quello che mi preme è trasmettere un messaggio di speranza, poter dire alla gente che vale che è sotto lo sguardo sognante di questo Dio. Non spiego tanto il quadro, parto dagli immagini per poi arrivare alla parola. L'opera mi serve come partenza per poi tirar fuori una chiave di lettura, un tema, in questo caso su San Francesco. Sono partito con questo progetto ma intanto ne ho in cantiere altri e l'idea è proprio quella di continuare a fare altre serate così, con altre tematiche. Vado dove mi chiamano in oratorio, in chiese, in luoghi anche un po' inediti, in associazioni, in varie strutture, circoli, in piazze. Si va, si monta, si fa la serata e poi si torna. Grazie a tutti.